Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un piccolo quadro su come approcciarsi a una manifestazione di successo. Tutti i miei podcast sono funzionali al lavoro su voi stessi affinché voi possiate andare a scavare dentro di voi e realizzare una realtà di successo. Soprattutto nell'istruzione, istruzioni su come manifestare la realtà dei tuoi sogni, la chiave assoluta prima e seconda parte, le leggi di attrazione test host, tutti quelli, tanto lo sapete quali sono. Però io adesso voglio fare uno schema, voglio fare uno schema proprio perché l'autostima, come sviluppare l'autostima, che è qualcosa che vi sgorga da dentro quando studiate i podcast, leggete i libri funzionali alla legge spirituale, vi sgorga da dentro la parte dell'autostima. Però voglio fare uno schema oggi proprio perché ho sentito questa necessità, evidentemente serve. Allora, l'autostima, cioè la consapevolezza del valore di chi siete, è fondamentale per la manifestazione. Mettere in luce chi siete, perché è come se il chi siete è una stanza a buia. Quando voi mettete in luce vi rendete conto che siete l'assoluto. Caspita, l'assoluto, oddio, e che faccio? Così. E il punto è proprio questo, come familiarizzare con l'assoluto. Perché quando siamo stati nella stanza a buia per decenni e ci fanno uscire di botto la luce, tu sei la luce, quindi ti devi abituare piano piano. Quindi noi andiamo a scavare piano piano, a fare le cose piano piano, proprio per abituarci all'immensità che siete, ok? Quello che vi spiegherò oggi è una cosa che tantissime di voi già hanno fatto, già hanno manifestato tanto, grazie al lavoro che hanno fatto su loro stesse, con quello che vi dico sempre. Oggi voglio fare proprio uno schema, cioè ho avuto questa esigenza, partirò dal corpus principale su cui dobbiamo andare a mettere l'attenzione e soprattutto per le ragazze che sono all'inizio del lavoro spirituale, che volevano magari uno schema mentale su cosa seguire a livello quotidiano, come praticare la loro quotidianità nel lavoro su loro stesse, proprio affinché voi sappiate che dovete fare questo lavoro ogni giorno, ogni giorno. Se volete manifestare tutta la realtà dei vostri sogni, dall'amore al lavoro, alla salute, tutto, tutto. Questo è lo schema che dovete avere sempre davanti, ok? Mi è sembrato doveroso fare proprio uno schema concettuale. Partiamo dal punto che noi dobbiamo andare a recuperare quegli aspetti di noi che stanno seppelliti là dentro, nelle nostre cantine buie. Sono aspetti che ci hanno indottrinato a credere che non esistessero, ci hanno indottrinato a credere di essere inetti, schiavi, perché meglio manipolabili. Ma questo io ve lo racconto sempre, perché una popolazione manipolabile è meglio gestibile. Ok, ma questo lo sappiamo già, ok? Oggi voglio concentrarmi proprio sul mettere in luce le vostre potenzialità, concetto di autostima. Vi dico sempre di ripetere affermazioni di successo, perché il nostro cervello, la nostra mente razionale, sin dall'infanzia riceve una programmazione dalla famiglia, dalla scuola, dal catechismo e dalla società. Riceve una programmazione per cose che vengono dette. Ciò che viene detto, sentito, non necessariamente compreso, messaggi subliminali, ciò che viene detto e sentito, proprio l'educazione, come a me piace chiamarla, educastrazione piuttosto. Ecco, ci creano la nostra, i nostri pensieri, i nostri credo. I nostri credo creano la realtà. Sin dall'infanzia, che cosa succede? Che il credo, il credo, è un semino. Vengono messi dei semini dentro di noi, che germoglieranno nella tua realtà, dando la realtà che tu manifesti, perché è il tuo credo che genera la realtà. Questa programmazione che ci viene fatta dall'infanzia è dovuta a una serie di ripetizioni. Ripetizioni. Vi ho raccontato in uno dei podcast, non mi sto ricordando qual è, di quando si è instillato dentro di me il credo che io fossi grossa da piccola. Perché c'era uno, un bambino a scuola, sei grossa, sei grossa, sei grossa, cicciabomba, cicciabomba, sei grossa, sei grossa, sei grossa. Io per quello là mi sono vissuta una vita pensando di essere grossa, anche quando ero al limite con l'anoressia. Grossa, 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 ok. Quindi io avevo un credo che non è che a cinque anni, a sei anni io do credito a quella cosa, però si instilla dentro di me quel semino. Che va a scontrarsi con la società, con una realtà in cui ci sono dei credo secondo cui un modello di riferimento di bellezza non è accettato e un altro sì. Dipende dal momento storico in cui ti incarni. Quindi si è restillato questo credo negativo. Sono grossa, sono grossa, questo per dirvene uno, ma sono tantissimi. Generalmente però i credo principali, quelli più antichi, sono sempre tre, quattro, da cui poi generano tutti gli altri. Quindi il mio sei grossa, questo credo negativo, si è restillato nella mia coscienza, senza che io lo sapessi coscientemente. Sei grossa, sei grossa, sei grossa, ok. Che cosa succede? Che quelle ripetizioni hanno iniziato a mettere radici dentro di me, tant'è che io pensavo di essere grossa e quindi proiettavo tutti gli altri bambini che mi dicevano sei grossa, sei grossa. Oppure che ne so, ho proiettato anche un parente che mi diceva, ah ti sei ingrassata eh. Mi diceva sempre così, ok. Uno zio in particolare. Ogni famiglia ha i suoi colori voglio dire. C'era questo zio che era fissato, alimentazione, palestra, io me lo vado a proiettare là. Che ogni volta mi diceva, ah ti sei ingrassata? Non è che vuoi fare con me di addominale, ma do questo. C'è veramente un'ossessione. Vabbè, comunque. Vabbè. Quindi iniziando a... Il semino del credo iniziava a germogliare. Io mi proiettavo inconsciamente questa realtà. Questo è uno dei credo. Insieme a quegli altri credo che io ho dovuto rintracciare, il lavoro che vi dico sempre, rintracciate i credo negativi che sono dall'infanzia. L'altro credo che io credevo appunto di avere era quello dell'incompetenza. Non sono competente perché non mi lasciavano fare niente a casa. Nel senso anche la scuola dove non potevo decidere niente. Credo limitanti sull'efficienza. Quindi io ero inefficienta. No, non faccio io questa cosa, diceva mia madre o mia nonna. No, no, faccio io. Tu non la sei fare. No, lascia stare. Quindi credo di inefficienza, di modello estetico così grossa come tanti altri. Vi ho raccontato anche il credo secondo cui io pensavo di non poter manifestare, secondo cui un uomo per me non era una figura che poteva starmi accanto, un uomo. Perché questo? Ecco perché poi proiettavo anche questo nelle relazioni. Perché avevo il credo inconscio che non l'avevo consapevolizzato. L'ho trovato quando ho fatto il lavoro su di me per rintracciare i credo negativi. Quando vedevo che la persona che amavo mi lasciava, perché? Oltre al fatto di credere di non essere bella, di non essere realizzata, inefficiente, oltre al fatto di questi credo, c'era anche il credo inconscio ancora più antico del fatto che quando vi ho raccontato mia nonna voleva fare l'attrice. E mio nonno era di una gelosia furibonda. Mia nonna stava girando un film. Aveva 16 anni. Parliamo degli anni proprio degli anni 50, primi anni 50. Non mi ricordo, no, primi anni 50. Mio nonno la trovò seduta sulla sedia da regista e gli disse scendi subito, adesso. Mia nonna scese, dopo poco si sposò con mio nonno. Quindi mia nonna covava dentro questa insofferenza, non ne ho mai parlato a casa, però io la percepivo, del fatto che avendo un uomo accanto tu non ti puoi realizzare. E quindi ho covato dentro questa cosa, mandando via le persone che amavo. Però l'ho rintracciato dopo questo credo. Quindi ogni volta che avevo una relazione, nei miei affari di lavoro, io facevo la cantante, non dovevano entrarci proprio le mie persone specifiche. Assolutamente. Anche quelli che mi hanno amato alla follia. Io tendevo sempre ad allontanarli dai miei affari di lavoro. Proprio perché sono andata a rintracciare questo credo. Ora, perché vi sto dicendo questo? Perché dovete rintracciare i vostri credo limitanti che vengono dall'infanzia. Questo ve l'ho già detto nella chiave assoluta. Infanzia, scuola, catechismo e anche quelli più superficiali che sono relativi al sistema, alle mode. Allora, individuare questi credo più antichi. Quando individuate questi credo più antichi, dovete vedere, tipo, io ho sempre pensato di essere non grossa. Ok, da dove viene questo credo? Ve lo scrivete, ragazze e ragazzi. Ve lo scrivete. Mi sono ricordate che il bambino mi diceva così. Poi ho proiettato lo zio che mi diceva così e ho proiettato tutte le persone che mi erano intorno. Non tutte, ovviamente, quelle che ho visto e riscontrato questo credo qui. Che io ero grossa. O magari mi regalavano un vestito, era una certa taglia, ma non mi andava perché io ero una taglia in più. Cioè, tutto quello che ha a che fare con questo tipo di credo. Quindi, individuate il credo, tipo, sono grossa. Ok, da dove viene questo credo? Da quell'infanzia. Chi me lo diceva? Questa persona, questa persona, questa persona. Bene. Voi trovate il credo? Adesso, ribaltate il credo. Cioè, io sono magra. Io ho un corpo meraviglioso. Va bene? Dovete ribaltare il credo che sono alla radice. Questo ve lo dico sempre, ormai da anni. Un altro credo, quindi, io credo, quello rispetto alla nonna, no? Al nonno che avevo. Io credo che con un uomo accanto la mia vita è meravigliosa. Io credo che con un uomo a fianco è bellissimo lavorare perché mi appoggia e mi sostiene. Quindi, fate il credo opposto. Io credo che, io credo che, io credo che, ok. Un altro credo che avevo era quello sulla povertà, sulla ricchezza e sul denaro. Tutti i miei genitori, i miei genitori, i miei nonni hanno lavorato tantissimo, hanno sacrificato anche i loro spazi per mantenere la famiglia. Ok. Come la maggior parte. Quindi, credevo che per guadagnare soldi bisognava spaccarsi il BIP. Proprio spaccarsi il BIP. Tant'è che ho proiettato anche, ho proiettato, ho avuto un papà che per mantenere bene la famiglia doveva per 12 anni è stato fuori. Tornava solo il weekend, aveva una casa fuori a 300 chilometri da dove abitavamo noi. Quindi, sono cresciuta con i nonni materni. Quindi, per 12 anni mio padre, per mantenere bene la famiglia, ha lavorato fuori. Quindi, credevo anche che, anche questo credo c'era, no? Che per lavorare bisogna fare dei sacrifici enormi, per guadagnare sacrifici enormi. Ok. Anche questo è un credo sbagliato. Perché è un credo sbagliato? Perché non fa gioco a nessuno avere delle persone libere, indipendenti, che pensano con la loro testa, consapevoli del proprio valore, del proprio potere, che guadagnano con le proprie capacità e talenti. No, questo viene sempre dalla macchinazione del sistema. Perché avere delle persone suddite rispetto a un governo, rispetto a un sistema che ci vuole schiavi inetti e non consapevoli delle nostre capacità, meglio manipolabili perché dominati dalla paura, delegando il proprio potere all'esterno, o come a qualsivoglia governo, la possibilità di concedergli la ricchezza, di concedergli libertà. Vabbè, ragazzi, questi sono discorsi di cui oggi non è la sede, insomma. Ah, ok. Quindi, nella misura in cui tu ribalti il credo, per esempio, io credo di avere doni e talenti meravigliosi, si che manifesto alla perfezione. Per me è facile fare soldi perché vengono riconosciuti i miei talenti. Io vi sto dicendo il percorso che ho fatto, eh? Ve lo sto dicendo per sommi capi, perché giusto oggi voglio concentrarmi sullo schema da fare per avere un'idea anche schematica su come approcciare, perché le altre storie un po' più approfondite le racconto tutte nei podcast e negli interattivi che facciamo. Io credo di avere un talento meraviglioso, io credo di essere apprezzata, io sono apprezzata, io credo quello che vi funziona, però soprattutto nei credo, quando fate il ribaltamento dei credo, mettete io credo, poi io sono. Questo come lavoro iniziale, quindi questo è per rintracciare i credo negativi. Io credo di avere dei talenti meravigliosi, io credo di essere geniale, io per me è facilissimo guadagnare perché viene apprezzato il mio talento. Cioè potete anche argomentare, no? Come vi ho detto in questo caso, per me è facilissimo guadagnare perché viene apprezzato il mio talento. Cioè potete anche argomentare per sostegno alla vostra mente razionale, va bene? Io vi sto dando uno schema di base, poi voi con la vostra intuizione dovete approfondire, potete sistemare, fare degli accorgimenti. Questo è lo schema di base che ho utilizzato io. Perché noi riceviamo questi modelli di riferimento e da lì prendiamo spunto. Perché ripeto, la società ci voleva obbedienti, il sistema, noi stiamo ribaltando tutto. La ripetizione di questi credo è fondamentale, perché? Perché, come vi ho detto in altri video, il nostro cervello crea credo. Cioè sulla base di quello che vede, sulla base della ripetizione che gli viene data, crea i suoi pensieri, i suoi credo, che manifesterà la realtà. Ora, se io ho creduto che fare soldi fosse difficile, che non ero competente, che ero brutta, come facevo a manifestare una realtà nel lavoro di successo? Insomma, come anche nell'amore. Ho iniziato a manifestarlo quando ho fatto il ribaltamento di credo. Il nostro cervello non fa, questa è una chiave fondamentale, ragazze mie, per capire il valore della ripetizione delle frasi che fate. Il vostro cervello non fa differenza tra le ripetizioni che riceve dall'esterno e che ha ricevuto dall'esterno e quelle che date voi. Se voi vi dite, io sono bellissima, io sono geniale, io sono creativo, io sono insustituibile, io sono, oppure io credo di essere geniale, io credo, va bene? Se state iniziando adesso il lavoro su voi stesse, fate io credo, poi ribaltate io sono, ok? Oppure fate ambedue, mettetele. Quindi la ripetizione crea dentro di voi nuove sinapsi. Il vostro cervello non fa differenza se le ripete qualcuno vicino a voi o le sentite dall'esterno, oppure siete voi a ripeterle. E quindi si creeranno nuove sinapsi sulle vostre nuove affermazioni. Ecco perché, come insisto sempre, la ripetizione è fondamentale. Ma non solo la ripetizione, va anche fatto il come se, fai come se. Fai come se le affermazioni che tu stai pronunciando sono già reali. Ma come ve l'ho spiegato anche nel video, istruzioni su come manifestare la realtà dei tuoi sogni. Se volete una casa nuova, non sapete come fare, non avete denaro, andate a comprarvi le lenzuola della stanza da letto. Andate a comprarvi delle tovaglie per la casa nuova, ok? Fate come se. Quindi, io sono bella, io sono bellissima. Cosa faresti con questa affermazione nel fai come se? Ti vesti in un certo modo? Hai un'aurea diversa? Ok, fai come se. Quindi, la ripetizione è fondamentale, rintracciare i credo. Cosa fare una volta che avete rintracciato i credo? Vi scrivete, i credo negativi, vi prendete il foglio. Questo è un lavoro che va fatto nei giorni, nelle settimane, non è una cosa che si può fare subito. Perché poi ci andate, nella giornata vi arrivano altre cose. Ok, prendete un foglio e scrivete, da una parte, fate una sbarra, da una parte i credo negativi. Io sono brutta, io sono povera, io sono deficiente, io sono cretina. Cioè, tutte queste qua. Ve le scrivete, per esempio, a sinistra, tutte. Solitamente ne troverete 4-5 di grossi, quelli sono in credo da radice, in credo madre. A destra, fate una freccia da uno all'altro, mettete il credo opposto. Io sono brutta, io sono bella. Io sono povera, io sono ricca. Io sono deficiente, io sono geniale. Ok. Poi, cosa fate? Con la penna sbarrate i credo negativi. Io sono brutta, sbarra. Io sono povera, sbarra. Io sono ricca. Ok. Sbarratevi. Una volta sbarrati, questo è proprio il procedimento che dovete fare. Una volta sbarrati, voi mettetevi, prendete... Io facevo così, io bruciavo i credo, bruciavo. Ma magari mettetevi sotto al camino o con una candela. Attenti a non bruciarvi, ragazze, però, eh. O li bruciate, oppure potete anche fare questo lavoro che vi sto dicendo con la visualizzazione. Cioè, che state visualizzando, che prendete la parola, io sono brutta, la scrivete su un foglietto, su un post-it, e la bruciate. Potete anche farlo con solo la visualizzazione. Io l'ho fatto con... Vi insegno sempre il fai come se. L'ho fatto proprio anche tecnicamente nella pratica. Prendendo tutti i credo negativi che erano usciti. Ad uno ad uno tu li guardi, tipo, io sono brutta. Allora, prendi questo credo negativo e guardi che te lo sei scritto, io sono brutta. Allora, te lo sei scritto su un quaderno, va bene? Poi li riscrivi su un post-it, quelli in negativo, va bene? Ok, guardi il credo negativo, io sono brutta. Lo prendi e lo bruci nel camino. O lo brucio alla luce della candela. La cenere poi me la lasci sulla candela o comunque la metti in una cosa di metallo. Non nei bicchieri di plastica che si brucia, eh. Oppure nel camino, oppure in un falò. Cioè, fate voi. L'importante è che state attente e non vi bruciate. Prendete magari il foglietto come lo prendo io con una pinzetta per le sopracciglia, va bene? In modo tale che non vi bruciate le dita. Non fa niente se non si brucia tutto il foglietto, perché il gesto è proprio simbolico, va bene? È la volontà, il gesto simbolico che imprime nella coscienza il fatto che tu bruci completamente quella credenza. Bruciate tutti questi credo negativi. Poi la cenere che è in esubero, ok? La cenere, insomma, quella che è rimasta, che avete messo nel ciotolino di metallo, va bene? Quella me la buttate nella terra, va bene? Me la buttate, non nella spazzatura, me la buttate nella terra. Proprio ridando alla terra, è un atto proprio di alchimia questo. Lo ridate alla terra, senza entrare nel merito di quest'atto alchemico che state già facendo. Buttate nella terra. Sappiate che la terra proprio rigenera tutto. Ok. Ora, sul vostro quaderno di lavoro, dove avete scritto i credo positivi, ci saranno quelli sbarrati negativi a sinistra, va bene? Tu mi riscrivi solo i credo positivi su un altro foglio bianco. Vi sto dicendo quali sono i passaggi, eh? Su un altro foglio bianco i credo positivi. E una volta scritti i credo positivi su un altro foglio bianco, voi mi ripetete quei credo positivi a loop. Me li ripetete a loop. La mattina, il pomeriggio e la sera prima di coricarvi. Questo di base, poi vi verrà da ripeterli durante la giornata, va bene? Soprattutto quando la mente sta pensando ad altro. Tu ti ripeti credo, ti ripeti credo, ti ripeti credo, ti ripeti credo, va bene? Perché ragazze questo è un lavoro di disciplina. Vuoi ottenere quella cosa? Così si ottiene. Qualsiasi cosa. Lavoro di disciplina. Perché abbiamo decenni e decenni di credo limitanti che stanno sotto, sotto. Quindi un lavoro di disciplina, perseveranza e disciplina. Va bene? Ora vi sto spiegando i passaggi, ma se vi viene di fare un credo dopo 20 giorni nuovo che avete trovato, bruciatelo, fatelo. Questi sono i passaggi essenziali. Non importa che fate prima una cosa, poi ne fate un'altra. Questo è un passaggio, uno schema. Poi, alla vostra maestria, il dovere di creare anche cose nuove rispetto a questo schema. Mi spiego? La disciplina nel fare questo lavoro tre volte al giorno, a oltranza ragazzi, non è un lavoro che si fa in una settimana, due, tre. È un lavoro che si fa in mesi. Perché dipende dal vostro livello di coscienza e da quanto sono antichi i vostri credo. Più sono antichi i vostri credo, più ci sarà necessario tempo. Io il credo che un uomo, per me, che era un credo antichissimo, io vivendo con mia nonna e mio nonno, che mio nonno completamente la castrava mia nonna, perché mia nonna era bellissima, di una bellezza proprio da brivido. Era una donna simpatica, teatrale, bellissima. Ripeto, era una cosa da brivido, però entrava in una stanza mia nonna. Scioccava tutti. Se c'era una stanza di 50 persone, entrava mia nonna, erano babbati, con la bocca aperta, perché non era solo bellissima, era simpatica, teatrale. Quindi è una cosa veramente imbarazzante. Quindi mio nonno è gelosissimo. Quindi io ancora su questo credo ci sto lavorando. Sono passati 30 anni, ma io su questo credo ci sto ancora lavorando. Perché comunque la persona che mi è accanto, io capisco che c'è questo credo. E ci sto ancora lavorando, nonostante l'abbia scoperto tanto tempo fa. Cioè, io se devo fare qualcosa di lavoro, mi rendo conto che comunque c'è quel credo lì. Io lo vedo. E faccio come se, ripetendo, la persona che ho accanto mi sostiene sempre nel lavoro. È meraviglioso nel mio lavoro portare la persona che ho accanto. Cioè, mi spiego? Ok. Ma avevo anche il credo della gelosia. Questo invece l'ho superato. Avendo sempre come modello di riferimento il nonno gelosissimo, come io ho raccontato anche in un altro podcast, ho proiettato il primo fidanzato, soprattutto 5 anni, di una gelosia furibonda, che non mi faceva andare ai karaoke. Quando mi faceva andare ai karaoke, mi faceva piangere tutta la sera, con una scusa banale. Quindi io credevo che se la persona mi amava, allora doveva essere gelosissima, perché avevo ricevuto quel modello di riferimento lì. Questo l'ho superato, eh? Questo l'ho superato. Però anche lì, no? Andiamo sotto a vedere se tu pensi che per essere amata quello deve essere pure geloso. Cioè vai sotto, vai sotto e vedi. Io sto facendo degli esempi miei per farvi capire come rintracciare i vostri, che possono essere completamente diversi. Mi spiego? È un arricchimento portare la persona che ho accanto nel lavoro. Va bene? Quindi ci sto ancora lavorando per questo per dirvi cosa? che nonostante abbia conseguito i successi straordinari che ho sempre voluto nel lavoro e nell'amore, questo credo qui è antico. Quindi ci vuole tempo. Io ci sto mettendo più di 30 anni. Va bene? Però tutto va sempre meglio. Quindi per dirvi che rintracciare quei credo lì, voi dovete mettere nero su bianco, carta e penna. Ok? Ora, quando avete individuato i credo positivi, quindi avete fatto il foglio in brutta, i credo negativi a sinistra, i credo positivi a destra, ok. Vi siete scritti da dove vengono quelli negativi? Ve li siete scritti su un altro foglio. Tipo mia nonna ha fatto questo, io mi sono resa conto che è questa cosa, oppure mio padre ha fatto... Voi li scrivete su un altro quaderno il perché di questi credo negativi. Vi siete riscritti i credo positivi? Avete bruciato i credo negativi? Se vi vengono altri credo negativi durante le giornate, fate di nuovo quella cosa del bruciare il credo negativo, ve lo scrivete su un post-it, va bene? Su un bigliettino. Lo bruciate, la luce e la candela, non importa che sia luna piena, luna nuova, no, non importa. È la tua volontà cosciente che sta creando una realtà di successo. Ok? E allora, vi siete scritti tutti i credo positivi? Bene, tre volte al giorno, come fosse proprio una medicina. Tre volte al giorno, la mattina quando vi svegliate, il pomeriggio e la sera, prima di coricarvi, vi suggerisco di fare i credo positivi una volta di queste davanti allo specchio. Lo specchio sei tu. E lo specchio è la realtà esterna. Una di queste davanti allo specchio. Bene. Fatto il credo positivo, il credo positivo, dopo questi credo positivo, tipo, io sono bellissima, io ho un lavoro straordinario, io sono geniale, io credo che tutti mi considerano in modo straordinario. Quello che avete scritto, detto questo, quanti sono questi? 5, 6, 7, 11, 12, 20, quanti volete? Fate questo. e mi fate la pratica del grazie dei 5 minuti. Va bene? Unite i vostri credo positivi con il grazie, 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 la pratica del GIA con il sorriso. Quindi, per chi non la conoscesse, è una pratica inventata dallo straordinario scienziato Fabio Marchesi, che consiste nel ripetere 5 minuti il grazie, 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 con il sorriso. Ok? Forzato. Anche se non mi viene forzato, perché il sorriso ha accesso a tutte le esperienze magnifiche che la tua anima ha vissuto. Quindi, mi fate questa pratica. Quindi, rintracciare il credo. Quaderno di brutta copia. Rintracciare il credo. Fate, cancellate, fatemi, quaderno di brutta copia. tipo, primo, credo, io sono brutta. Perché? Perché quel bambino, oppure perché era una mamma, oppure il papà mi ha detto, ok, mi scrivo tutta questa cosa. Poi, secondo, credo, io sono incapace. Questo, i miei credo. Perché? Perché questo, 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 questo. Chi me l'ha detto questo qua? E c'era lo zio che mi disse questa volta, quella volta una cosa, e allora quello zio mi ha messo il semino che poi, ok? Fatevi sto lavoro su un quaderno. Non c'è una cosa del dire sto facendo bene, sto facendo male. Voi dovete mettere nero su bianco, cioè dovete portare alla luce, alla coscienza, quello che vi verrà. Qualsiasi cosa vi viene, la cosa giusta. Non c'è un modello unico per tutti, perché ciò che vi viene, è il vostro sé superiore, che lo vuole far uscire. Quindi siete i maestri della vostra realtà. Quando dite io sono bella e sono ricca, ok, il vostro ego, che è la mente razionale, che non vuole cambiamenti, che vi relega dove state, perché come vi spiego sempre, la mente razionale, l'ego è programmato per la sopravvivenza. Se l'ego, se siete rimasti vivi fino a questo momento, con tutto quello che avete fatto, nel male, così nel bene, se siete vivi, con tutto quello che avete fatto, sappiate che l'ego non vuole il cambiamento, vuole tenervi dove state, anche se il dove state fa schifo, ok, quindi, nel momento in cui voi iniziate a fare questo lavoro, l'ego non vuole il cambiamento, quando tu gli parli di gioia, l'ego, ma tu non hai mai vissuto nella gioia piena, l'ego ti dice, che cosa è questa gioia? no no, resta dove stai, io ti tengo dove sto, anche se fa schifo, dove stai, so che sei vivo, e quindi, perché lui vuole la sopravvivenza, quindi, l'ego, mentre fai questo lavoro, ti combatterà in tutti i modi, ti combatterà dicendo, ti fai schifo, sei brutta, non ti si prende nessuno, oppure, sarai sempre incapace, sarà sempre meglio quella persona, meglio di te, tutte queste cose, sono già cose che già risapute, lo sapete, voi con una clavata, continuate a persistere, perché ripeto, il cervello, la mente razionale, ego, chiamiamola come vogliamo, si riprogramma con la ripetizione, quindi, tre volte al giorno fisse, date prova che avete impegno, volontà, nel farlo quelle tre volte, fatelo almeno di queste due volte, la mattina svegliate, la sera, quasi sempre allo stesso orario, se ci riuscite, la mattina e la sera, il pomeriggio non importa quando lo fate, se non riuscite agli stessi orari, non fa niente, sto dicendo questo per dare una disciplina in più, ok, che vi stavo dicendo, oltre a questo, allora, credo, sì, la pagina è brutta, il, il foglio dove avete scritto, credo negativi, alla parte destra, avete scritto, credo positivi, voi, mi bruciate i credo negativi, uno alla volta, riscrivendoli di nuovo su un foglietto, io sono brutta, brucio, brucio, e io sono inefficiente, lo brucio, li bruciate tutti, appena li bruciate tutti, voi vi rileggete quelli positivi, io sono bella, e vi contemplate questa affermazione, io sono geniale, e ve la contemplate, va bene? Vi contemplate, dopo aver fatto il lavoro del bruciare, tutti quelli positivi, ora, io vi sto dicendo, questa è la tecnica, poi, non c'è un passaggio prima, dopo, queste cose vanno a susseguirsi di nuovo, voi potete riscrivervi di nuovo, i credo negativi, riscrivervi di nuovo quelli positivi, l'importante è che abbiate disciplina, qual è il comune denominatore di quello che vi sto dicendo? disciplina nello scavare in fondo, e nel mettere nero su bianco, delle cose che stanno sotterrate, ok? Fatto questo, vi fate, sempre sul quaderno degli appunti, che potete strappare, fare, ok? Detto che fate, scrivete almeno otto cose, che vi piacciono di voi, otto, otto cose che vi piacciono di voi, dici perché otto? Otto è il numero della giustizia divina, l'abbondanza divina che si riversa nella materia, anche le mie carte oracolo, lui lei, sono ottantotto, ossia l'abbondanza divina che si manifesta nella realtà di terza dimensione, quindi otto cose che vi piacciono di voi, tipo, mi piace, che ne so, mi piacciono le mie unghie, ho delle unghie meravigliose, mi piacciono le mie unghie, prima cosa, mi piacciono le mie unghie, oppure, comunque la mia simpatia, però, io sono, io amo la mia simpatia, oppure, una cosa che sapete fare, dice, io non so fare niente, no, ognuno di voi, Dio, ha dato almeno tre talenti di base, da cui nascono tutti gli altri, ricordatevi sempre questa cosa, ok, tre talenti di base vi ha dato, da cui nascono tutte le altre cose, quindi, tipo, che ne so, per farvi capire, mi piace come metto le fedele dei cuscini, io guarda, non le mette nessuno, come rifaccio il letto, io non lo rifà nessuno, come lavo i piatti, io mi piace come lavo i piatti, cioè, mi spiego, oppure, mi piacciono i miei piedi, io amo i miei piedi, per esempio, sto facendo gli esempi per farvi capire, non è che dovete dire, otto cose che vi piacciono di voi, potete anche dire, io amo la mia creatività, se siete dei creativi, o se sentite, oppure, io amo il mio sorriso, io amo il fatto che, cioè, potete anche argomentare, io amo il fatto che, sono sempre allegra, perché tutte le persone mi chiamano, perché sono sempre allegra, io amo questo fatto, mi spiego, ok, scrivete otto di queste cose qui, scrivete quello chiamato, che vi piace di voi, potete scriverne più di otto, io ho detto otto, perché dovete raggiungere un numero otto, come proprio sforzare, non basta un giorno, ci vogliono due giorni, tre giorni, lasciateli il foglio, poi ci ritornate il pomeriggio, le giorni a seguire, ok, queste cose che avete scritto, questi otto, oppure più, cose che vi piacciono di voi, o chiamate di voi, me le dovete pronunciare appena sveglia, il pomeriggio, e la sera prima di coricarvi, vi ho detto prima di pronunciare, credo positivi, con il grazie, 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 ok, io sono partita dalla fine, per tornare all'inizio, perché quello che vi piace di voi, o chiamate di voi, me lo dovete dire prima di fare, di dire le affermazioni mantra, dei credo positivi, e poi successivamente, il grazie, 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 il metodogia, quindi ricapitoliamo, come prima, dovete dire, almeno otto cose, che vi piacciono di voi, chiamate di voi, come seconda, dovete fare, i credo positivi, che avete detto, che vi siete scritti, e poi il grazie, 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 il metodogia, con disciplina, voi ve lo dovete scrivere, sul calendario, adesso, da quando iniziate a fare sto lavoro, da adesso in poi, i 21 giorni, sono fondamentali, perché si stabilisce un'abitudine, dai 21 giorni in poi, è tutto di guadagnato, sono monetine d'oro in più, questo è un lavoro, che non è che fate in 21 giorni, lavoro che fate per settimane, mesi, 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 anni, io ancora mi rifaccio, e mi credo, mi spiego, sono passati 20 anni, ok, quindi, dovete mettervi questa abitudine, almeno per 21 giorni, e poi da lì a seguire, sempre, 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 fino a quando, sarà il vostro cervello, che vi sentirà, vi farà sentire, che avete instillato dei credo, avete instillato dei credo, siete voi i maestri, qua stiamo per destrutturare, noi stessi, il sistema che ci hanno inculcato, con le ripetizioni, con la disciplina del lavoro su di sé, che significa, disciplina mentale con quello che vi sto dicendo, e la pratica del fai come sei, tu praticamente, mi devi ripetere queste cose, mattina, pomeriggio, sera, questo di base, poi durante la giornata, vedrai che ti verranno in mente, i nuovi, credo, da ripetere, mentre sei in macchina, mentre, non lo so, mentre sei al lavoro, mentre stai guardando il computer, io sono geniale, io sono bellissima, io sono creativa, io sono intuitiva, io tutti mi amano, tu 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 tu, perché dovete fare i conti col fatto che voi, mentre state in stand by, e ci sono influenze accanto a voi, durante tutta la vostra vita, se voi state guardando, per esempio, un qualcosa, e dietro di voi c'è una radio che parla, ma voi non la state ascoltando coscientemente, però vi sta inondando di spazzatura, tu 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 tu, eccetera, queste strage così, tu anche se coscientemente non la stai ascoltando, il tuo cervello recepisce le informazioni, mi spiego, quindi sono tutte ripetizioni che noi abbiamo avuto, di stragi, di penuria, di infermità, e tu te lo devi ripetere da solo, quando stai da sola, o stai guardando il computer, o stai facendo altro, o stai facendo la spesa, tu 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 tu, ok? Le tre volte mattina, pomeriggio e sera, me le dovete dire ad alta voce, perché il vostro orecchio senta, durante la giornata, se avete la possibilità di dirle ad alta voce, bene, altrimenti ripetetevele dentro, tu 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 tu, ok? Una volta fatto questo, quindi vi ho dato un programma, questo serve proprio a non aumentare la vostra autostima, a farvi capire chi siete, perché vi esplode la autostima, ok? Adesso, questo vi serve per manifestare un lavoro, l'amore, tutto, ok? Adesso, c'è una cosa fondamentale, che dovete fare, come prima cosa, vedete, sono partita dalla fine, per arrivare all'inizio, perché adesso vi sto spiegando come si fa, e poi lo applicate, va bene? invece quello che vi dico in questo esatto momento, lo potete fare qui adesso già con me, il bambino interiore, la bambina interiore, allora, prendetevi, come prima volta, dieci minuti, respirate profondamente, e immaginatevi da bambina, da bambini, immaginate l'età che vi arriva alla mente, neonati, primi anni di scuola, immaginate proprio un momento, un'età che vi viene in mente, è quella l'età giusta, immaginate questa bambina che vi guarda, adesso, prendete in braccio questa bambina, o questo bambino, è triste, ha bisogno di voi, è tanto tempo che non l'avevi considerato, guardalo, guarda la bambina, guarda il bambino, accarezzale il viso, guarda tutti i suoi sogni e tutti i suoi desideri, sono stati infranti quei sogni, quei desideri? la maggior parte sì, probabilmente, adesso ci sei tu però, sei tu, che realizzerai tutti i suoi desideri, tutti, nessuno escluso, stringi la tua bambina, stringi il tuo bambino, e digli, adesso io ti giuro, io ti prometto, che non ti lascerò mai più, perché io ti amo, io ti onoro, io ti rispetto, sei la mia vita, sei il grande amore della mia vita, e io realizzerò tutti i tuoi sogni, adesso, sfogatevi ragazze mie, sfogatevi, fate uscire le lacrime, se ci sono, commuovetevi pure, perché quello che avete fatto adesso, è il più grande sodalizio d'amore, che potevate mai fare, adesso la vostra bambina interiore, il vostro bambino interiore, sono liberi finalmente di esprimersi, perché tu la difenderai con tutta te stessa, tu lo difenderai con tutto te stesso, e darai voce e credito soltanto a lui, soltanto a lei, alla tua bambina interiore, ragazze mie, questo lavoro del bambino interiore, lo potete fare in qualsiasi momento, sentiate la necessità, ma come primo, come inizio di questo lavoro, dello smantellamento dei credo, è fondamentale, che voi prendiate in braccio, la vostra bambina, e il vostro bambino, perché vi dirà adesso, tutto quello che dovete sapere, perché è la chiave di volta della vostra realtà, del vostro successo, quindi detto questo ragazze mie, e adesso vi dico una pratica da fare durante la giornata, quando proprio volete liberarvi proprio da energie in negativo, vi prendete 5 minuti, oltre al lavoro che abbiamo detto, vi prendete 5 minuti, 5-10 minuti, meglio sarebbe anche 10 minuti, chiudete gli occhi, respirate, e immaginate, un ruscello d'acqua, in un posto magico, meraviglioso, incantato, immaginate quest'acqua, che passa attraverso delle rocce antichissime, che hanno in sé tutto il dono della purezza, della bellezza, acqua pura, acqua di sorgente, quest'acqua scende in una piccola valle, un piccolo, dove tu puoi fare il bagno, circondata dalla natura, un luogo meraviglioso, un luogo meraviglioso, magico, incantato, ecco tu, immagina il tuo corpo, nuda, nudo, che ti immergi in questa acqua meravigliosa, bevi quest'acqua meravigliosa, nuoti in quest'acqua meravigliosa, di sorgente, pura, acqua divina, acqua che nutre, cura, guarisce, e lava, lava, lava. Ecco, mentre tu ti nutri di quest'acqua, ti fa il bagno in quest'acqua, tutta l'energia negativa viene dissolta istantaneamente, rimani in questo specchio d'acqua quanto lo senti necessario, sentiti proprio in questo specchio d'acqua pulita, e non appena lo senti, esci fuori dallo specchio d'acqua, ti metti sulla riva, ti lasci inondare da questa sensazione di grazia, di bellezza, con la consapevolezza che ti sei ripulita, ripulito da tutte le energie negative, apri gli occhi e continui la tua giornata, lo potete fare in qualsiasi momento, quando andate a dormire, o quando state così, quando volete, io lo faccio ogni volta che lo necessito, diciamo, anche per addormentarmi uso questa visualizzazione qui, lo potete fare quando volete, ok. Ora, adesso vi dico un'altra cosa, per procedere nell'attività quotidiana del lavoro su di sé. mentre avete a che fare con le persone, e vi viene detto qualcosa rispetto a qualcosa che voi non condividete, non vi fa stare bene, ricordate che il vostro ego che chiama ciò che è a voi non fa stare bene, è la mente razionale, il vostro ego, dei programmi inconsci, vi viene detto qualcosa che non vi piace, qualcosa che vi fa male o vi dà fastidio, dentro di voi dite, io ti benedico, io ti battezzo, io non accetto assolutamente la tua opinione, lo dici dentro te stessa, io non accetto assolutamente la tua opinione, io ti benedico, ti battezzo, ti ringrazio, con la consapevolezza che l'altro sta proiettando una zona d'ombra di te, ok, questo è nel lavoro proprio quotidiano, ti benedico, ti ringrazio, lo dite dentro di voi, io non accetto assolutamente la tua opinione, ok, poi un'altra affermazione da dire sempre, ok, soprattutto quando avete emozioni negative, ok, oltre alla pratica del grazie, 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 che fate a prescindere, ok, questo è proprio un booster sul lavoro su di sé, perché ragazze, ragazzi, dovete bombardare il subconscio, dovete bombardarlo, bombardarlo come lui ha bombardato voi per decine e decine di anni, dovete proprio bombardarlo, non deve esserci tregua, perché una volta che vi siete risvegliati, e l'ego ha visto che vi siete risvegliati, quello impazzisce, dice, caspita, questa si è risvegliata, quindi gioca tutte le cartucce, cioè il nemico è dietro l'angolo, il nemico come pensiero negativo, te li butta tutti lì, e noi stiamo armate fino al collo, allora, io trasformo il piombo dell'emozione negativa nell'oro dell'emozione positiva, io trasformo il piombo dell'emozione negativa nell'oro dell'emozione positiva, io trasformo il piombo dell'emozione negativa nell'oro dell'emozione positiva, va bene? la trasmutazione alchemica, quindi io trasformo il piombo dell'emozione negativa nell'oro dell'emozione positiva, tutto ciò che accade va sempre a mio favore, quindi ragazze miei e ragazzi queste sono tutte cose che vi ho detto a oltranza, va bene? vi ho detto a oltranza, era giusto per avere adesso una disciplina mentale su come applicare le cose, per avere un quadro mentale, è importante l'ordine mentale, quindi l'ordine era proprio questo, in sequenza abbiamo il bambino, la bambina ferita, il bambino ferito, lo riprendi in braccio, poi ti fai tutto quello che a te ti piace fare, per cui sei brava e chiami, poi rintracci i credo negativi, che sono generalmente 4-5, da cui sono arrivati, sono i credo madre, da cui poi sono generati tutti gli altri credo, quello dei credo è un lavoro che dura giorni, settimane, poi li rintracci, poi li scovi altri, ok, rintracciare quelli che i lampanti ti vengono, poi continui il lavoro cercando di rintracciarne degli altri, scrivere su un quaderno di brutta e su un foglio in bella, vi organizzate voi con i quaderni, quello negativo, li sbarrate tutti, scrivete quelli positivi accanto, poi fate il lavoro di bruciare quelli negativi, uno dopo l'altro, io sono brutta lo brucio, io sono incapace lo brucio, e quando finite di bruciarli tutti, vi guardate, vi leggete, contemplate quelli in positivo, io sono bella, io sono geniale, ok, fatto questo, durante la quotidianità, se vi arrivano delle situazioni negative, eccetera, io non sono d'accordo, io non sono d'accordo con la tua opinione, io non accetto la tua opinione, io ti benedico e ti ringrazio, ok, fate questo lavoro qui, poi il bagno nell'acqua di sorgente, e queste sono proprio delle pratiche, ovviamente rispetto a tutto quello che già vi ho detto, ma soprattutto questa è la pratica sul come impostare proprio il lavoro, ok, quindi proprio la tecnica di base su come impostare il lavoro, poi lasciatevi ispirare ragazze mie, cioè nel senso l'importante è mettere nero sul bianco e praticare con disciplina il lavoro su di sé, fondamentale per riscoprire il vostro valore, a manetta, la ripetizione è fondamentale perché il cervello si costruisce, costruisce il credo sulla ripetizione, che voi ne siate coscienti o meno, la ripetizione di tutte le informazioni che ha intorno a sé, messaggi subliminari che arrivano ovunque, quindi, volevo farvi proprio un booster su questo in modo tale da fissare l'attenzione su quali sono i principi della riscoperta del valore di sé, al fine di manifestare una realtà che vibri alla frequenza dei nuovi credo, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, per oggi basta, era giusto un riepilogo un po' di tutto su come manifestare e a partire dalla vostra autostima, altrimenti mi manifestate una realtà che ha a che fare con le vostre credenze limitanti. Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo concludo qui per oggi, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, oltre a dirvi studiate, che Dio vi benedica tutte!